Eheh sono Pazzox e come promesso ecco il video della cara stella segreta della settimana numero 6 Ma come sempre prima di incominciare Vi avverto su una cosa, chi non ha completato tutta l'intera settimana Ovviamente non vi apparirà la stella segreta di quella determinata settimana Quindi se nel caso non vi compare controllate bene se avete completato tutte le sfide di quella settimana Se nel caso l'avete fatto allora buona visione E come potete vedere questo è il caricamento con tanto di descrizione dove alla deriva si magna due belli popcorn insieme alla carissima bomba rollo lucente E c'è anche il leviatano tantissimo lontano E dove sarà mai la stella? Beh come potete vedere dal caricamento proprio su quel caro camioncino rosso Beh basterà andare in questo preciso punto Scavare un po' di leddy qua perché anche io non trovavo quale camioncino fosse E poi ho capito subito qual'era riguardando l'immagine Quello davanti allo schermo ormai distrutto Non vi resta che andare lì e ovviamente troveremo la nostra carissima stella segreta A cosa serve la stella segreta? C'è sempre qualcuno che me lo chiede Serve per salire di livello nel nostro caro pass battaglia E che dire ragazzi spero che questo video vi sia stato molto utile come sempre Noi ci vediamo con dolcissimo e carnissimo He he Ciao 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 Ciao